Vivi la Franza, rivivi la tua gioventù. Tele Monte Carlo e Ford vi augurano buone feste. Gala Sport 90 vi è offerto da Omega, momenti che contano. Gala Sport 90 vi è offerto da Omega, momenti che contano. Una puntata molto particolare perché vedrà con noi i campioni, i partecipanti, quelli che ci hanno fatto vivere durante questo 1990, che a me è stato particolarmente caro, i momenti più importanti dello sport. E con me a condurre Gala Sport Massimo Caputti. Buonasera, buonasera, grazie Alba. Però sono tre anni fa. No, vabbè, ma io sono meno popolare. No, no, senti Massimo. Io volevo dirti, innanzitutto, dopo averti presentato questa sera siamo orfani di Altafini. Eh sì, però lo salutiamo. Certo, Giuseppe. Saluto a Giuseppe. Buon Natale anche a te. Allora, sotto l'albero noi abbiamo avuto la fortuna di trovare tantissimi campioni che questa sera sono con noi in istudio. Addirittura sono la nostra platea, si fa per dire naturalmente. Allora, in realtà lo sono...